Pinalma, la palla è fuori per Stamilla che si coordina per la conclusione al volo. Esce Alberico, tanta confusione in area, riesce comunque a uscirne il ceriale, non riesce a riavviare l'azione di contropiede, anzi forse ci arriva Buffares. Molto rapido il giocatore numero 10 del ceriale che mette il pallone per la corsa di Enrico. Sulla uscita di Farsoni è ancora Enrico a mettere in rete il 2-1 del ceriale che ribalta dunque l'iniziale vantaggio della Carlins. L'avevamo detto, è un ceriale temibile soprattutto in trasferta, e proprio in trasferta sta mettendo alle corde una Carlins che in questi primi 20 minuti di gioco ha sì mantenuto il pallino del gioco, è andata in vantaggio ma poi si è fatta raggiungere e superare. Qui su azione di contropiede.